eccoci qua o la todes times up ritorna e ritorno ovviamente per una specie di speciale sei nazioni ritorniamo a raccontare un po quello che sta succedendo nel mondo del rugby raccontiamo le prime due partite oggi si gioca a irlanda galles e la tralasciamo un attimo da parte magari nei prossimi giorni farò un minimo approfondimento si sono giocate italia francia e lo sappiamo è finita 50 10 per la selezione di fabian galtier e si è giocata in ghiterra scozia la calcutta cup la partita celebrativa dei 150 anni della calcutta cup io vi consiglio di guardare le bellissime magliette celebrative per questa occasione e la calcutta cup è tornata edimburgo ed è la prima volta dall 83 in cui la calcutta cup viene vinta dalla scozia a domicilio inglese quindi era da quell'anno lì che non sbancava twickenham una vittoria che dimostra se vuoi mai se ce ne fosse la conferma perché ricordiamoci che l'anno scorso la scozia ha battuto la francia mare fi giocando una partita notevole certo c'è il rosso come alibi però la partita fu estremamente indicativa del valore della scozia il discorso fondamentale quale la scozia vincerà sei nazioni ci sono altre quattro partite e vanno sempre giocate e vinte la scozia però è competitiva e ciò al netto delle difficoltà del galles di winpivac che magari magari si risolveranno nel corso del torneo potenzialmente è un cinque nazioni vecchio stampo dove tutte possono battere tutte le altre e dove i sei nazioni si può e i sei nazioni comunque cinque nazioni si può vincere e perdere ovunque perché cinque alla fine perché restiamo fuori noi e siamo fuori noi per la sconfitta non solo per la sconfitta di ieri la ventottesima consedutiva del torneo restiamo fuori noi per uno scarto notevole tra l'italia e le altre nazioni ma questo si sapeva già che partita è stata la francia è stata sognona ha saputo aspettare ha cercato di capire dove dove volevamo giocare come volevamo giocare quando poi ha visto che l'italia era in grado comunque di metterla in difficoltà non solo con alcune individualità ma anche con un certo tipo di lavoro sulle strutture sull'organizzazione di gioco sui multifase poi ha alzato l'intensità e lo ha dimostrato in una fase di gioco cioè la contesa a te la contesa su punto d'incontro ogni volta che c'era bisogno di ricontendere la palla nei propri 22 la francia lo ha fatto e lo ha fatto con estrema efficacia se dobbiamo trovare un grandissimo punto di difficoltà italiano a parte i placaggi di cui ha parlato franco smith ieri secondo me sono i sostegni sono sostegni soprattutto in attacco e si è visto non solo sul punto d'incontro ma si è visto secondo me in alcune situazioni in cui i giocatori secondo me più brillanti della nazionale penso a a vani a garbisi a negri in molte situazioni cercavano di giocare dei possibili offload e guardavano i compagni sperando di trovarli sul su un canale aperto per giocare l'offload e tante volte i compagni non ci sono stati questo è un problema ma soprattutto secondo me è un indice di una mancanza che di qualcosa che ancora l'italia non ha non ha pienamente forse una certa capacità di osare di giocare su certi intervalli di attaccarli perché poi l'italia ha dimostrato di saperli giocare perché poi l'italia ha sofferto tanto secondo me sull'autoscontro tante volte pretende di fare questo scontro fisico di dominarlo suo sconto fisico ci torniamo perché c'è stata una cosa che a me ha colpito in negativo ma non riguarda la nazionale sullo scontro fisico ha sofferto la francia perché sperava di con le tante cariche tanti ball carrier di guadagnare vantaggio e non sempre ha trovato quando invece ha cercato di giocare a determinati intervalli soprattutto varne per esempio vicino a punto d'incontro la francia lì ha dovuto fare delle scelte lì ha dovuto scegliere se stringere la difesa all'arcarla quindi automaticamente gli spazi andavano formati e quando ci sono stati dei giocatori che hanno attaccato quegli spazi lasciati liberi all'altezza ci sono stati degli ottimi palloni all'altezza di varne e l'italia a linea di vantaggio l'ha trovata quindi potenzialmente questo tipo di piano di gioco esiste e si può attuare e si può attuare perché tu hai una mediana giovane creativa che ha idee che non è solo playmaking e spostare il pallone e anche attaccare di prima persona e provare a leggere il gioco io credo che questa sia una grande qualità che hanno varne e garbisi e va utilizzata secondo me e sono convinto che piano piano franco smith porterà la squadra a utilizzarla per quanto sempre vorrà un certo tipo di lavoro fisico di impatto di gioco potremmo dire sudafricano però quando hai queste qualità poi punti a usarle che comunque gli allenatori non sono stupidi che francia è stata abbiamo detto sorgnona poi bisogna smetterla con una cosa francia a b c la francia di famiglia galtier ha un ciclo incredibile a 50 60 70 giocatori di alto livello alto livello e sono intercambiabili io ho capito che jalibert non è il tamac ma jalibert è un signor giocatore è un talento un giocatore fantastico è bello da vedere è tecnico fa un sacco di grandi giocate poi duponte duponte è stato magnifico il calcetto il calcetto europa palla recuperata dal dalla mole è stato straordinario straordinario e sulla meta dopo non tanto il sostegno l'intervallo attaccato ma il riciclo al crociare io ve lo consiglio per concetto tecnico magnifico duponte ha illuminato il gioco ma un altro di cui si potrebbe parlare è bris dulen perché a novembre fece una grandissima partita si parlò di francia b francia c altre cose dulen un signor giocatore e non è l'unico e poi ci sono altri cioè è una francia lunghissima è una francia intercambiabile non è che c'è questa questa cosa francia b non esiste non esiste c'è un grandissimo lavoro della federazione francese dei club dell'accademia dei club che formano 50 60 70 giocatori di altissimo livello questo è un dato di fatto e va riconosciuto e dovrebbe essere anche l'obiettivo dell'italia speriamo prima o poi di raggiungerlo concludo con due cose la prima io mi arrabbio la sento fare soprattutto da chi denigra il nostro sport però a testa alta non esiste più non esiste più da anni l'ha ribadito ancora una volta oggi garbisi mi sono salvato io chi se ne frega se prendi 50 punti non ti salvi e ha ragione garbisi e quella deve essere lo spirito della mentalità scordateva l'italia a testa alta l'italia vuole fare un punto e più dell'avversario punto e se non li fa non è contenta e non deve esserlo nessuna squadra di rugby ricordiamoci questo poi torno un attimo sul ball carrier perché c'è stata verso la fine della partita una frase di vittor munali che mi ha colpito a proposito bene che sia guarito bene che sia tornato a commentare solo che ha detto una cosa che non mi convince io capisco che si voglia dare un tipo di motivazioni però nel momento in cui lui dice che l'azione di ball carrier non è fatta per guadagnare la linea di vantaggio ma è fatta a un livello conservativo secondo me sminuisce il dato di fatto e sminuisce anche questi giocatori c'è l'idea che esista un game plan di questo tipo tu uno contro uno lo vuoi battere ma lo vuoi battere dall'ultimo dei campetti della periferia italiana sei nazioni uno contro uno vuoi vincere questa è la realtà è una triste realtà e bisogna dirla molto semplice onesta e chiara e dispiace dirla ma è così concludiamo qua ci sarebbero mille altre cose da dire sarei anche lungo ma veramente noi ci vediamo presto non solo per raccontare le altre partite del sei nazioni ma anche per parlare di tante altre cose perché parleremo di tanti altri sport avremo libri servizi corrispondenze magari anche una roba sul superbole ci sto lavorando però vediamo intanto ci sarà stasera io comunque vi consiglio di guardarlo perché è un grande spettacolo non solo quello di beta tempo ma anche uno grande spettacolo di sport e qui a time's up parliamo di sport o la todes a presto